Wabalaba dub dub e bentornati su No Mamamazzo. Continuo a parlare della DC Comics, non sarà un mese esclusivo DC Comics ma comunque ne parlerò parecchio perché comunque il 18 marzo uscirà la Justice League di Zack Snyder quindi con lo Snyder Cut che all'inizio anch'io francamente snobbavo un po' ma pare che di tutto il vecchio film che abbiamo visto si siano tenuti solo 20 minuti e c'è ci sono 140 nuovi minuti che non abbiamo mai visto, la storia cambia completamente quindi è comunque la prima volta che un film viene rimaneggiato così tanto e sono molto curioso. Nel video di oggi voglio concentrarmi però sui fumetti, voglio concentrarmi su questo capolavoro che è Harleen, opera che io non conoscevo, francamente un'opera che io al Luca Comics virtuale del 2020 aspettavo quest'altro numero Joker Harley, lucidità criminale ma che grazie a Luca DJ, approfitto per ringraziarlo, grazie a Luca DJ e al suo Instagram ho scoperto che invece c'è anche questo numero che devo dire ho apprezzato di più. Ora non voglio parlare di Joker Harley e lucidità criminale, farò un video dedicato e poi farò un video su Instagram in cui confronterò i due fumetti, suoglieremo insieme i due fumetti. Qua voglio concentrarmi su Harleen, Harleen che è un'opera, ve lo faccio vedere direttamente in macchina, la cui storia, disegni e copertina sono tutti dello stesso autore. Questo Stiepan, non so assolutamente come si pronuncia, mi scuso, partiamo dalla copertina che è fantastica, mi ha riportato anche un po' all'infanzia in cui c'erano queste pagine lucide che nascondevano qualcosa, nascondevano una modifica del disegno. Vediamo un Harley Quinn che nasconde una dottoressa Harleen Quinzel che è praticamente soggiogata, che è vittima, che è, come si dice, circuita dall'amore che prova per il Joker. E qua nella storia vediamo appunto il punto di vista di Harleen, della loro mad love, la nascita della loro storia d'amore che tutti i fan di Harley e Joker conoscono, ovvero Harleen Quinzel è una psicologa. Allora qua, in questa storia dovrebbe avere attorno ai 30 anni, se l'Aureata sta facendo uno studio sulla mentalità criminale, sta cercando fondi per riuscire ad associare a immalati di mente che ci sono nell'Arcamasailum una sorta di mancanza di empatia, una sorta di filo conduttore che può quantomeno spiegare i loro sintomi, la loro follia. Vediamo che fin da subito lei fa dei sogni, fa degli incubi in cui sogna già il Joker ancora prima di ossessionarsi veramente a questo personaggio. Abbiamo un Joker disegnato in modo molto molto giovane, molto anche bello, non ha un volto particolarmente brutto, ricorda un mix tra il Joker di Jared Leto per questa giacca grigia e la camicia viola, ma con il capello un po' più lungo alla Heath Ledger. Vediamo che ha comunque un fascino nuovo questo Joker, un fascino quasi attraente. Ci fa capire questo autore perché Harley trova questo figuro, questo losco figuro anche attraente dal punto di vista fisico, al punto di innamorarsi, di ossessionarsi da lui. Vediamo tutto questo percorso verso la follia, questa strada per l'inferno, la stricata di buone intenzioni come Harley stessa la definisce, in tutto il suo percorso in cui lei appunto nella ricerca di fondi per questa sua ricerca viene finanziata niente po' di meno che dalla Wayne Enterprises per studiare questi criminali. Perché comunque Bruce Wayne ci tiene al lavoro di Harley Quinn, vede una possibilità nel recupero di alcuni dei suoi villain più famosi. Harley Quinn per questo viene assunta all'interno dell'Arkham Asylum e qua vediamo la nascita di quello che già avevamo visto nei cartoni, ma qui ovviamente è molto più approfondito. Vediamo che il gestore attuale dell'Arkham Asylum è il dottor Hugo Strange, che è un altro dei villain di Batman. Sappiamo che è già successo, ecco, la storia è un pochino leggermente diversa, rispetto a quello che c'è nella storia ufficiale dei fumetti e dei cartoni dove è nata appunto Harley Quinn. Vediamo che in questo caso è già successo di Jonathan Crane, ovvero dello spauracchio, dello spaventapasseri. Sappiamo che all'Arkham Asylum sono poco fiduciosi con gli psicologi proprio per questo, proprio perché l'ultimo psicologo è stato il dottor Jonathan Crane, che ha sperimentato il suo siero della paura sui pazienti per poi diventare lui stesso un criminale e diventare lui stesso un ospite dell'Arkham Asylum, però per esempio non è ancora successo il fattaccio di Harvey Dent. Harvey Dent tuttora è il procuratore distrettuale, mentre Harleen Quinzel è una dottoressa alle prime armi che sta facendo uno studio sui malati di mente all'Arkham Asylum, Harvey Dent è ancora il procuratore distrettuale. Vediamo che proprio mentre Harley è all'interno dell'Arkham Asylum, a fare la psicologa ovviamente, vediamo Harvey Dent che viene sfigurato dagli uomini di Marone, se non sbaglio. Questo numero autoconclusivo omaggia tantissimo il film del 1989 di Batman, perché per esempio l'azienda chimica in cui Joker venne sfigurato non è la Ace Chemical ma la Axis Chemicals, che è come l'hanno rinominata nel film del 1989. Ciononostante Batman di per sé è una figura di contorno, perché ci si concentra esclusivamente su Harleen, sulla sua figura, ci si concentra sul suo rapporto con il signor J, il Joker, che scopriamo in questo modo che Harley in questo contesto chiama Joker signor J non tanto come vezzeggiativo ma perché non sanno proprio il nome del Joker e quindi usano J, che è la sua iniziale, ma può anche essere un nome di per sé come l'unico modo per chiamarlo in modo rispettoso, non con il suo nomignolo, che poi diventerà invece il modo in cui Harleen chiamerà Joker mettendolo su un piedistallo e prostrandosi in tutto e per tutto diventando la sua schiava d'amore. È bello invece, appunto, siccome Batman è una figura marginale, è bello vedere invece anche tutti gli altri comprimari che riempiono la Rogue Gallery di Batman, sono tutti all'Arkham Asylum, è bello vedere Killer Croc, vedere l'Enigmista, vedere Xaz, vedere anche Poison Ivy, si scopre comunque Poison Ivy è una figura molto importante per Harley, vediamo come riesce in qualche modo a conquistare un pochino di amicizia nei confronti di Ivy, vediamo come Harley riesce a conquistare Pamela Hysley, stupidamente tra l'altro, quindi a un certo punto Harley Quinn smette di utilizzare il taccuino che ricordiamo è fatto con la carta, quindi con gli alberi morti, e inizia ad utilizzare un registratore per il semplice fatto che la sua discesa verso l'inferno comporta anche una totale svogliatezza nel suo lavoro che non concerne il Joker, vediamo come comunque Poison Ivy da questo piccolo gesto prende un pochino in simpatia Harley Quinn, intanto che in una scena riesce a salvarle la vita. Questo può sancire quella che sarà la loro amicizia futura. Vi consiglio ovviamente questo numero, è spettacolare, mi è piaciuto tantissimo, costa 26 euro, poi magari su Amazon lo trovate anche a meno, vi metto qua il link in descrizione, devo dire che rispetto a tutta l'hype che avevo per quest'altro numero, Joker Harley, che poi vedremo in un altro video, mi è piaciuto molto di più, Joker Harley invece mi ha un po' deluso, tra l'altro Joker Harley è uno di tre numeri che però non continuerò a prendere, mentre questo è un numero completo e costa semplicemente 26 euro contro i 18 di questo che moltiplicato per 3 fa una buona sessantina di euro. Quindi scusate se ogni tanto parlo anche di soldoni, però è giusto per farvi capire il rapporto tra il prezzo e la qualità di quello che avete tra le mani. Questo è un must have se amate i Batman, se amate i suoi villain e sono felice di averlo scoperto questo numero. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi ricordo che qua in descrizione poi troverete anche un video che vi porterà al mio canale Instagram in cui sfoglieremo insieme le tavole di questo numero. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie. Grazie.